Il Comune diffonde i dati del monitoraggio sul transito di veicoli nel comparto di San Bernardo e canta vittoria per la viabilità, che a giudizio dell'assessore alla viabilità stessa Alessia Manfredini, del PD, funziona grazie alla riduzione del traffico e intanto incassa un'altra critica. Certo che funziona in quella zona, semplicemente perché dal sottopasso di via Brescia non si passa. Il passaggio è limitato ai veicoli piccoli e bassi e alle bici. Il traffico, chiuso al consigliere dei Cinque Stelle Maria Lucia Lanfredi, si è spostato e chi attraversa il sottopasso corre anche un rischio, perché non c'è spazio nemmeno per i vigili del fuoco e le ambulanze. Gli automobilisti, se possono, evitano la nuova infrastruttura e si ritrovano così ad affrontare una tortuosa gimcana. Il peggio, però, è che per la fine del mese la Regione potrebbe voler restituito dal Comune parte del finanziamento, oltre mezzo milione di euro, che ricadrà sul bilancio e quindi sui contribuenti. Il decreto di saldo è appena arrivato con la firma del dirigente regionale Marco Cassin. Agostino Alloni poi accusa il pirellone di incoerenza perché punisce il Comune per aver inserito una pista ciclabile nel sottopasso proprio negli stessi giorni in cui lo premia per quattro nuove piste ciclabili, volute anche dai comuni del circondario. La viabilità fra rotatori e sensi unici, comunque, non è più la stessa e le lamentele sono frequenti, fra lettere dei cittadini e polemiche in Consiglio Comunale, anche a causa dell'imponente spesa pubblica, una decina di milioni in tempo di crisi. Delusione anche da parte del rinnovato Comitato di Quartiere. Il monitoraggio, intanto, ha confermato che i carichi di traffico locale sono diminuiti. Nel 2016, nel tratto tra Via Endertà e Via Brescia, dove è stata attivata la viabilità definitiva dal 10 ottobre, sono passati 4.061 veicoli, cioè il 14% in meno del 2015 e il 46% meno di due anni fa. Alessia Manfredini, da parte propria, ricorda che erano stati residenti anni fa a chiedere meno traffico quando c'era il passaggio a livello. È rimasto, insomma, il traffico locale. Chi viene da Brescia passa altrove, compresi camion e furgoni. Per chi si inoltre, nel sottopasso a piedi, infine, il Comune ha collocato un corrimano d'acciaio zincato. Ma per non pochi cremonesi era meglio prima. Meglio lasciare il progetto come era, a due sensi di marcia e senza pista ciclabile, evitando quindi di dover restituire alla regione mezzo milione di euro.